Amici buongiorno a tutti e già siamo al lavoro e buon gioverdi scelto già qua guardate mamma mia bellissimo 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 veramente ora siamo in fase del corritorio ora cerchiamo di completare tutto questo corritorio come dicevo ieri sera è live il corritorio era intorno a 10 metri senza misurarlo ora l'ho misurato è di 10 metri e mezzo lungo per un metro chiaramente sono intorno 21 metri 21 metri di corritorio perché 10 si fa 10 e mezzo per 10 e mezzo per un metro fa 21 metri 21 metri di corritorio oggi si deve completare tutto di vento di sabbia scelto amici che dirvi vi auguro una buona giornata a tutti e buon giovedì e si fatica la fatica certo a pagnotta andiamo a buscare avanti a più tardi certo